Simone Schinco, come si misura il rapporto corpo-mente? Il rapporto corpo-mente nasce dal presupposto che siamo un'unica unità inscindibile, quindi corpo e mente non sono scisi, non sono separati, sono un tutt'uno. A tal proposito noi, attraverso uno studio fatto dal nostro gruppo di lavoro, abbiamo messo in rapporto, in relazione, il movimento con il sistema nervoso autonomo e siamo in grado di misurarlo oggi e di andarlo a regolare attraverso un piccolo test che dura 5 minuti con un sensore collegato al petto o al braccio. Questo risulta fondamentale soprattutto oggi in cui tutte le patologie correlate allo stress stanno aumentando e oggi ormai diventa imprescindibile andare a lavorare su questo aspetto. Michele Di Domenico, cosa illustra, cosa dice l'ultimo studio presentato proprio oggi? Lo studio che abbiamo presentato quest'anno ha dimostrato in maniera inequivocabile che le capacità di movimento influiscono sulle funzioni cognitive e quindi una migliore capacità di movimento mi dà una maggiore attenzione e una maggiore attività del mio cognitivo. Oggi siamo nell'era in cui corpo e mente non possono più essere separate e quindi prendersi cura del proprio corpo e del movimento è essenziale anche per la salute mentale. Dottoressa Cocuzzi, in questi giorni si celebrano le giornate della salute mentale. Quanto è importante dal punto di vista psicologico effettuare questa pratica? Per il benessere psicologico dobbiamo ricordarci che è importante che sia bene anche il corpo. Le due parti oggi sono inscindibili, quindi non possiamo trascurare niente. È stato constatato che il movimento, al di là dell'esercizio fisico, abbassa molto i livelli di stress, innalza i livelli di autostima, quindi favorisce una sicurezza personale e soprattutto ci dà un forte autocontrollo a livello emotivo. Per questo dobbiamo promuovere l'attività fisica. Sono in aumento le malattie mentali? Sono in aumento, ma soprattutto la richiesta di aiuto maggiore è quella per combattere disturbi d'ansia. Quindi è aumentato questo disagio. Perché? Perché abbiamo una società che ci richiede tanto.